la filiera dell'acciaio ha riacceso i motori le aziende sono tornate in produzione le acciaierie stanno sfornando acciaio i centri servizi hanno ripreso a lavorare e aspettano che riparta in modo deciso anche tutta la filiera tutta la parte bassa della filiera vale a dire l'utilizzo senza la domanda dell'utilizzo è difficile reggere in questo momento così complesso e complicato è ripartita la filiera è ripartita in soprattutto utilizzando la formula della deroga e lo ha fatto mettendo in sicurezza i propri lavoratori i propri processi perché sostenibilità e sicurezza sono da sempre due dei punti forti sui quali tutta la siderurgia investe credendo che soltanto in questo modo soltanto nel rispetto di quelle che sono le regole e nell'ambiente si possa continuare a produrre acciaio certo la siderurgia così come l'impresa avrebbe probabilmente avuto dei vantaggi ad una regolamentazione più chiara anche da parte del governo che dicesse quali le cose che si possono fare quando si possono fare e fino a che punto ci si può spingere così non è stato dal governo però la siderurgia e l'impresa italiana si aspettano adesso degli atti concreti dopo i molti annunci si aspettano che la burocrazia alleggerisca tutti i passaggi che portano che riescono a trasferire liquidità nelle casse delle aziende la cassa integrazione nelle tasche dei lavoratori non ci sono alternative se vogliamo se immaginiamo che il prossimo semestre possa in qualche modo recuperare la perdita di pil che è stimata nei primi sei mesi dell'anno del 15 per cento le macchine i motori le aziende devono ripartire al più presto lo deve fare l'impresa nel suo complesso e la fidiera dell'acciaio che di tutto il sistema industriale è il punto di riferimento e il punto di partenza la politica ha perso troppo tempo non c'è più spazio per ulteriori lungaggini non c'è più spazio per spaccature non c'è più spazio per un dibattito e un'articolazione sterile con l'europa è il tempo dell'azione lo chiede il nuovo presidente di confindustria lo chiede il presidente di federacciaio alessandro banzato lo chiedono i tanti imprenditori che arrivano e che fanno sentire la loro voce attraverso siderweb siderweb la community dell'acciaio raccoglie queste voci le rilancia ed è vicina a tutti i propri componenti con l'informazione e soprattutto in questa fase anche con i nostri webinar webinar su nei quali discutiamo e cerchiamo di capire dove stiamo andando nel prossimo avremo gianni venturi segretario della fiom e titolare di tutta la partita siderurgica e il presidente di confindustria brescia e del gruppo feralpi giuseppe pasini con loro ragioneremo come dalla fabbrica al mercato il nuovo paradigma è cambiato e come si può ragionare come si può capire se insieme si possono fare dei passi per accelerare la ripresa e per tracciare insieme le linee di un nuovo futuro